Primo deposito sia il brano elettroshock, cosa ricordi? Ma ricordo un'emozione incredibile perché ovviamente vedi scrivere canzoni pensare di fare il primo deposito di una canzone è un momento speciale è un ricordo bellissimo, tra l'altro all'epoca, dico all'epoca perché in realtà se è passato qualche annetto c'era ancora il fatto che bisognava trascrivere il ritornello, le otto misure principali sul bollettino di deposito e mi ricordo che io mi sono esercitato per tempo per poter poi fare bene quella cosa e quindi ho ricordo, se vogliamo anche tenero, mi suscita tenerezza questo ricordo Romantico Romantico, romantico perché insomma è da lì che poi è partita tutta la mia storia che mi ha portato fino qua oggi quindi è un bellissimo ricordo Come è andata l'esibizione? Ma l'esibizione è questa sera, dici? Questa sera bene, bellissimo perché di base la suonare e esibirsi all'Arena di Verone è sempre qualcosa di incredibile dal punto di vista emozionale è il luogo stesso